La distanza di sicurezza deve essere uguale allo spazio di frenatura, aumentato di 20 metri. Falso! 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 O no? Falso! L'inquinamento dell'aria prodotto dai veicoli a motore può diminuire se si accelera tenendo premuto il pedale della frizione. Falso! 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 Il segnale raffigurato presidenza alla un confine di stato con obbligo di arrestarsi. Il confine di stato è falso, perché se il headphone non si tratta, non si tratta, ma se si tratta, il microfono si tratta. Ok, ora il segnale è raffigurato presidenza alla un confine, il confine non si tratta, non si tratta. Falso! Falso! Il segnale raffigurato indica che si può parcheggiare tutti i giorni nella fascia orata indicato. Il segnale raffigurato presidenza alla un confine di stato obbligo di arrestarsi. Il segnale raffigurato indica che si può parcheggiare tutti i giorni nella fascia orata indicato. Il segnale raffigurato richiede di procedere con cautele in presenza di pedoni, anche se si trovano attuali dalla carreggiata. Il segnale raffigurato su una carreggiata a senso unico preannuncia l'inizio del doppio senso di città. Se un ferito della strada è stato di incoscienza, bisogna verificare se respira ancora, mettendo una mano sulla parte laterale bassa del toraceo o sull'addome. L'assunzione di alcol rende meno sicura la guida, poiché può provare sfuscitazione e imprudenza. Il rispetto della distanza di sicurezza evita la collisione con il veicolo. Vero. Vero. Il segnale raffigurato sente il transito ai pedoni. Vero. Consente ai pedoni. Il pannello raffigurato si fa il suo ruolo di cavallia. Salto. L'uso degli indicatori di direzione è necessario per segnalare che si può provare. Vero, vero, vero. Vero. Quando l'assicurazione per la responsabilità civile auto è scaduta di validità, si incorre in una sanzione se si circola o si lascia in sosta il veicolo sulle strade buone. Vero, vero. Vero. La revoca della patente è disposta quando il titolare sottoposto a esame di revisione non risulti più idoneo alla guida. In presenza di tratti di strada ghiacciati è opportuno marciare molto vicino alla barriera laterale. Falso. Falso, falso. Nel semaforo in figura, la luce rossa a forma di X impone di arrestarsi e attendere la luce già. Falso, falso, falso. Falso. Il segnale raffigurato obbliga i ciclisti a dare la precedenza ai luci. Falso, falso. Il pannello in figura segnala carichi indivisibili che sporgono dalla parte posteriore destra. Vero, vero. Vero, vero. Falso. Il pannello in figura segnala carichi indivisibili che sporgono dalla parte posteriore destra. Falso, falso, falso. Il limite massimo di velocità sull'autostrada è di 70 km per l'autostrada. Falso, falso. Ho, falso. Iniziare a guidare un veicolo a motore bisogna regolare il contachilometri parziale. Falso. Il casco è obbligatorio per il passeggero di un ciclomotore a due ruote, anche se maggiorenne. Circolando dietro a un veicolo che trasporta un carico in pericolo di cadere, è opportuno aumentare la distanza di sicurezza, specie se si è inserito. Il conducente del veicolo da sorpassare ha l'obbligo di tenersi più possibile vicino al margine destro su strade ad unica corsia per senso di attrazione. Vero, vero, vero. In caso di traffico intenso, il conducente deve regolare la propria velocità formandola il più possibile a quella della corrente di traffico che scorre lungo la corsia occupata. Vero. Il segnale raffigurato preannuncia il dirietto risolto. Passo, passo. Passo. Quando vi sono bambini fermi a semaforo, bisogna usare prudenza, perché può accadere che... Vero, vero. Vero, vero. Vero, vero. Vero, vero. Vero, davvero. Ok. Questo è il suo liceo vautodino, nel caso di cui ci sono dei pari. Lo specchio retrovisore centrale di un autoveicolo può essere rimosso se il veicolo è dotato di specchio laterale sinistro. Vero. Passo. 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 La striscia bianca laterale discontinua separa la carreggiata dalla corsia di emergenza. Passo. 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 la forza 30 aumenta la forza 30 avendo attraversare l'incrocio rappresentato in figura il veicolo ci transita dopo il veicolo e non falsos Dovendo attraversare l'incrocio rappresentato in figura, il veicolo C transita dopo il veicolo E. Vero. 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 Aumenta se l'asfalto è coperto di foglie. Vero. 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 Exactly. Vero. Saني. Vero. Per. Rasta, Šankara 1865. AllaERSShakoda. Vero. Sade. Vero. Vero. il nostro corso il nostro corso gratuito www.mesmerism.info 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 nessuno ora ok ok allora come come ok come 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 benna argomento argomento cholti se a mader